Per la prima volta assoluta in Disney DVD, i vostri paperi preferiti nel loro primo lungometraggio. Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta. C'è grande divertimento per tutta la famiglia quando qui, qua, qua e l'adorabile Zio Paperone scoprono una magica lampada d'oro e liberano un autentico genio che può realizzare tutti i loro desideri. E scoprite altri tesori solo su DVD, inclusi divertenti giochi come la caccia al tesoro di Paperone. Mi piace da impazzire! Testy presenta Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta su testi DVD e videocassette.